Bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video Io sono VittorioMaster89 e oggi siamo su Slenderman 2D Allora ragazzi E' il primo gioco horror che sto portando sul canale Se vi spaventate facilmente uscite da questo video Se vi spaventate facilmente Ho detto, se non vi spaventate rimanete su questo video Sentirete anche qualche rumore perché ho il ventilatore acceso E mette ansia Ragazzi scusate se non è lo Slender originale però Vaffanculo Bella ragazzi Lasciate mi piace, commentate, iscrivetevi E bella ragazzi Non posso sfuggire Giusto? No eh Dai ragazzi risformiatevi Prego Cioè raga è in 2D Ma mette una cazzo di ansia Cambiamo gioco Ok ragazzi siamo su The Halloween E vi voglio dire una cosa Io con i giochi horror non ce la posso fare ragazzi Ciao Zucca Che devo fa' Accendi la luce Raga Raga Trendy What the fuck Questo video durerà meno del solito Perché già mi sto cagando abbastanza sotto Porca troll Ci sono dei rumori bruttissimi Riaccendi L'avete visto anche voi? Raga ho visto solo io qualcuno volare? No? Ragazzi ok Io me ne sto andando Me ne sto andando Ok Io in questo momento sono in piedi Perché no 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 raga no Raga questo è il primo gioco horror ed è anche l'ultimo Io ve lo giuro Porca troia Ma vaffanculo Ma vaffanculo No 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 raga non avete capito Raga Vuoi proprio E' saltato Porca troia Aiuto Si è smosso tutto Ok Ragazzi E' saltato E' saltato tutto Raga Ragazzi 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 Mi sto accogliando Ragazzi Vi ho voluto bene Vi ho voluto bene in una maniera che voi non avete idea Chiudi San merda Ragazzi Sono uscito No 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 raga Porca troia Porca troia Porca troia Porca troia E' se non si era capito mi sono un po' spaventato Non so un pochettino eh Pochissimo Ma vaffanculo I mortacci tua Ma vaffanculo Giochi horror Di merda Che vi morisse la suocera Ma vaffanculo C'è cookie mama Che cos'è cookie mama No raga Raga No 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 Giochiamo a cookie mama No raga No 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 Io me l'ho detto che non ce la posso fare Con i giochi horror No raga Io ve l'avevo detto Porca di quella troia C'è prima il proiettile Poi gli tizi che fumano Nella camera Che cazzo gridi Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì ho spennato un po no no raga che cos'è sto schifo no raga guarda torniamo a torniamo ad halloween c'è raga io ho ancora il cuore a mille raga sto ancora pensando a quello spavento scusate le parole raga però io mi sono troppo cagato io giochi horror non andiamo proprio d'accordo raga io ve lo dico e giochiamo a cookie mamma ma vaffanculo senti esci da sta merda raga raga però no io i giochi horror non siamo mai andati d'accordo io i giochi horror non siamo mai ma proprio mai andati d'accordo soprattutto io e questa tizia raga io non so proprio che gioco fare perché i giochi horror via dal mio canale andatevene a fare in culo mai più mai più mai più mai fottutamente più forse fra vent'anni vedrete i giochi horror sul mio canale forse sentite raga io sto qua cazzeggiare ma trovo un gioco ok ragazzi sono su agar.io e vi voglio dire una cosa aspettate no lo scrivere i giochi horror fanno cavare vabbè se qualcuno sa chi ha inventato i giochi horror ditemelo perché potrei andare ad un saltino a casa nella notte così che lo faccio vedere io il gioco horror e guai a chi mi scrive giochi horror nei commenti quindi vedete di staccarmi nei commenti e che cazzo è questo mannaccia la patriosca patriosca uffa ragazzi io sono ancora traumatizzato c'è ma vedete un po che cazzo devo fare per per farvi video raga non vi azzardate ma proprio non pensateci neanche a scrivere con continua halloween gioco di prima non vi azzardate ok sono stato inghiottito da un pulcino allora ragazzi io direi che posso concludere quel video finalmente spavento di merda fanculo a chi ha creato i giochi horror io direi che posso concludere quel video baffanculo noi ci vediamo al prossimo video lasciate mi piace commentato iscrivetevi e bella ragazzi